Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sugo di radicchio, specca e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono radicchio rosso, cipolla, dado bimbi, aceto balsamico, zucchero, specca tagliata, noci, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale la cipolla e la tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Iniziamo sul fondo. Adesso aggiungere lo spec e l'olio. e facciamo insaporire per 3 minuti 100 gradi velocità 1. Aggiungiamo il radicchio che avevamo precedentemente lavato. Adesso aggiungiamo il radicchio che avevamo precedentemente lavato. e lo facciamo a tritare per 10 secondi a velocità 6. Aggiungiamo l'aceto balsamico. Adesso aggiungiamo l'aceto balsamico. lo zucchero. Il dado vegetale bimbi. e l'acqua. e facciamo cuocere per 7 minuti. 100 gradi 100 gradi velocità soft. Adesso aggiungiamo la granella di noci. mescoliamo un attimo con la spatola. e facciamo amalgamare per un altro minuto. a velocità soft. Il sugo è pronto. Trasferiamolo in un contenitore. Sugo di radicchio, speck e noci. Ottimo per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.